Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 19 novembre scorso dal giudice Graziella Luparello, che aveva stabilito 14 arresti nell'ambito dell'operazione Nebros II. Scarcerato e rimesso in libertà Giuseppe Foti Belligambi, assistito dall'avvocato Nino Cascia, sulla scorta di quanto sostenuto dalle difese di fronte al collegio del Riesame, preso tutto da Andrea Caterano, e quindi giunto il provvedimento di immediata scarcerazione anche per vita a Cavallaro e Angioletta Triscarigia Cucco, difesa degli avvocati Stefania Rania ed Andrea Giannino. Provvedimenti analoghi per gli altri indagati finiti in carcere come Sebastiano e Giuseppe Foti Belligambi, quest'ultimo già i domiciliari su disposizione del GIP, Anna Di Marco e Federica Pruiti. Il Tribunale della Libertà, per come si legge nel provvedimento, ha annullato l'ordinanza impugnata in relazione a tutte le contestazioni di mosse, spiega l'avvocato Cascia, riservandosi 45 giorni per il deposito della relativa motivazione. I Foti, aggiunge il legale da tempo, sono destinatari di gratuiti quanto infondati attacchi mediatici e respingono le accuse di mafiosità o di semplice appartenenza a contesti delinquenziali. I fratelli Foti e la signora Anna Maria Di Marco, conclude invece l'avvocato Cascia, che da sempre hanno improntato le loro condotte al rispetto della legge e delle regole del buon vivere, hanno patito questa esperienza devastante dal punto di vista umano che sperano possa indurre l'autorità a maggiori cautele. Nelle indagini della DDA e della Guardia di Finanza, altri sette furono ristretti ai domiciliari. Un quindicesimo indagato, l'ex direttore dell'azienda Silvo Pastorale di Troina, fu raggiunta invece da obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.